La solitudine è una realtà che affligge molte persone anziane in Italia. Secondo i dati Istat, circa 14 milioni di cittadini sono classificati come anziani, rappresentando il 23% della popolazione totale. Di questi, il 32 vive solo. In risposta a questa problematica, Hauser, Territoriale e Spicigelle di Foggia hanno lanciato il progetto Memoria, Coesione e Futuro, finanziato dalla Regione Puglia. Una delle iniziative chiave di questo progetto è il servizio di telefonia sociale, denominato Ascolta una storia, racconta una storia. È un servizio ispirato da un'idea di un bibliotecario spagnolo che prevede sessioni di lettura telefonica della durata di 15 minuti, durante le quali gli anziani possono scegliere il tipo di lettura che desiderano, ascoltare o condividere le proprie storie, diventando così memoria vivente. Obiettivo è ridurre le distanze sociali, soprattutto in tempi di post-pandemia, rompendo il muro della solitudine e valorizzando la dignità delle persone anziane. Per sostenere questo servizio, l'Hauser, in collaborazione con il sindacato pensionati della CGL, offre un corso di formazione per i volontari interessati a partecipare e ad offrire il loro apporto a servizio. Il corso della durata di 12 ore, suddivise in 6 lezioni, inizierà il 3 giugno e si terrà nei circoli Hauser di Foggia e San Severo.